Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati nel nuovo video haul! Forse try on haul, sì anzi sì, try on haul, mini piccinino try on haul in collaborazione con Banggood! Ciao Alessia, grazie mille, un bacione cara! Ehm... niente, vi mostro prima le cose che non sono vestiti e poi vi faccio vedere... Vi faccio vedere i capi... Allora, un capo lo indossa Davide e questi altri due li indosso io, vi faccio vedere vi lascerò poi le clip dopo anzi, vi dico subito che la clip del pantalone abbiamo già registrata quindi ve la lascio ora, anzi aspettate, non ora, un attimo allora, vi volevo dire che come al solito non ci sono spese di dogana le spedizioni sono sempre puntuali entro massimo due settimane arriva tutto molto preciso non ho mai avuto problemi con Banggood e sono anni che collaboro con questa azienda quindi, come al solito vi lascio tutti i link dei prodotti che vi mostro fissati nel primo commento in alto quindi se c'è qualcosa che vi interessa, che vi incuriosisce volete sbirciare, cliccate sul link non comporta nulla e andate a vedere le cose come corrispondono dalla foto alla realtà, vedete che è identico allora, partiamo con la prima clip dei jeans che indossa Davide, ve la lascio ora adesso non ve li mostro i jeans perché sono nell'armadio quindi non mi va di stare a prenderli perché sono già lavati, stirati, messi via quindi, dettagli vi lascio la clip ora ecco i jeans indossati guardate come sta bene Davide con questi jeans così molto molto carini qui c'è la cerniera nei soliti cerniere finte cioè finte no, quella si può aprire come se fosse uno spacco praticamente quello è più comodo di lasciarla chiusa sì, diciamo che il particolare è più bello così molto carini molto belli e questi qui li aveva presi anche bianchi mancavano neri questi vanno bene su tutto molto carini bellissimi questi jeans sono bellissimi sono come quelli bianchi che aveva preso quest'estate e ha presi anche neri perché sono veramente belli così c'è sia bianchi che neri si sta sbizzarrendo Davide con Banggood perché adora allora poi questa ho preso delle agende allora io adoro Riverdale non c'entra niente questo con Riverdale con Riverdale perché come vedete è un'agenda rosa con i fiori di ciliegio però la cosa veramente bella è che qua c'è scritto Cherry Blossom e appunto in Riverdale c'è Cherry Blossom è una delle protagoniste di Riverdale appunto e poi ero incuriosita è tutta sigillata e vi arriva sigillata con la pellicola adesso ve la apro però vi mostro come si presenta non riesco ad aprirla devo aiutarmi con qualcosa ho qua il mio kit di Hello Kitty delle unghie uso questo così posso aprire ce l'abbiamo fatta quindi nel link vi scriverò agenda Cherry Blossom no vabbè top così Cherry Blossom allora innanzitutto partiamo con dire che qua non c'è il bottone ma è magnetico e si attacca bene e quindi bello il pen loop non c'è ci sono le pagine dentro sono fatte tutte così la fantasia è la stessa per tutte le pagine troviamo questi fiori di ciliegio appunto e qui in fondo la pagina troviamo tipo dei petali di fiori che cadono è molto carina qui è fatta così la prima pagina è carina perché si può scrivere dei pensieri delle cose è bella è un'agenda che sta bene anche in borsa poi carina perché qua troviamo dei gattini è un'agenda comoda mi piace e l'ho voluta prendere poi qua ci sono questi questi segnapagina è bella dai è strutturata bene poi sempre in tema agenda ho preso questa qui questa è la macaron allora ne ho sentito parlare tantissimo della macaron e l'ho vista qua su su banggood e l'ho presa mi sono arrivati anche degli inserti così senza niente liberi questo qua è il formato personal e c'era anche color rosa e color lilla io ho preso questo azzurro tiffany allora si presenta così ha i classici anelli qui c'è questo proteggi anelli che non lascia il segno qua troviamo una tasca da questa parte e di qua abbiamo il pen loop una tasca queste invece sono divise per le tessere tipo una due e questa di nuovo intera quindi abbiamo due tasche intere e due divise a metà è molto carina vediamo come si aprono gli anelli si aprono bene guardate molto bene si chiudono bene è bella poi questa qua ovviamente la decorerò io come mi piace quindi e anche questa guardate ha la chiusura magnetica proprio molto molto bella adoro e poi qua appunto abbiamo in più questi inserti così che sono semplicemente a righe questi qua sono sempre comodi ovviamente per scriverci appuntare le cose che ci servono al momento aspettate che tolgo questo che proprio non mi piace ok ci vado a inserire questi fogli ok chiudo ok qua abbiamo messo i primi fogli se volete vedere il setup di questa agenda la macaron fatemi sapere e e ve lo farò il video insomma questa è molto molto carina e ovviamente poi ci metterò i divisori le cose l'abellisco io a mio piacimento e mi piace appunto perché qua si chiude così ok al contrario ve lo facevo vedere praticamente così così infatti da questa parola scusatemi ve lo fate vedere al contrario e qui appunto ci sono queste cose qui c'è abbiamo il doppio pen loop uno qua e uno qua top banggood due pen loop e così possiamo mettere due penne di magari una tipo la friction frixion frixion quella che si cancella e qui una magari colorata non lo so comunque ci si può sbizzarrire e penso che prenderò anche quella lilla o rosa penso rosa e è fatta molto bene non è non ha segni è cucita benissimo e davvero sono due agende molto molto belle questa è più agenda questo è più magari un diario per scriverci delle cose è molto molto carino appunto ho scritto cherry blossom ricordo chi guarda riverdale è molto belle queste due agende poi ho preso questo favoloso squishy squishy e fatemi sapere se volete vedere la mia collezione di squishy perché sono veramente tantissimi se guardate anche la pucciosità della confezione questo qua è di little twist star no vabbè adoro adesso ve lo faccio vedere che profumo sa di fragolina vaniglia adorabile questo è ma questo è bellissimo anche solo da mettere lì in esposizione ci sono loro due gli angioletti di little twist star e l'unicorno sono adorabili e questo è la loro squishiosità guardate sta cadendo e ritornano poi questi non sono slow rising no vabbè adoro ma quanto sono pucciosi guardate come sono fatti bene nei minimi dettagli no ma poi il profumo adorabile questo unicorno è bello cicciotto ha mangiato un po' questo unicorno top ma che belli che sono questi qua li devo mettere in esposizione vicino al devo metterli vicino alla little twist star che ho questa proprio pupazzo l'avevo preso alla fiera del fumetto e lo metto lì dove c'è la foto della mia megan ho preso questa magnifica lavagnetta guardate allora è stupenda ovviamente la scritta l'ho composta io ho messo una stellina davide il cuore poi cuore chiara stellina hashtag forever davide chiara forever e guardate allora dietro si può appendere oppure si può mettere semplicemente un piano semplicemente così però io l'appenderò guardate che bello quando è illuminato è favoloso e vabbè non si vede molto cioè ok si vede meglio così ho messo le lettere colorate perché allora la bacheca arriva in questa scatola ed è corredata da queste lettere queste qua nere semplici ci sono anche anche qua ci sono i cuoricini ci sono le stelline c'è la e commerciale l'hashtag ci sono tutte però sono quelle nere allora io a parte sempre su banggood ho preso queste qua il kit di tutte quelle colorate e quindi adoro nel link della lavagna trovate anche queste quindi vi lascio un unico link dove se vi interessa potete andare a vedere la lavagna e selezionare anche queste ah ovviamente la lavagna arriva corredata anche di questo cavetto che se non si vogliono mettere le pile dentro che funziona col pile stilo non incluse si mette questo che si può attaccare al usb oppure con l'adattatore apposta direttamente la corrente però io ho messo con le pile così almeno non ho fili sparsi per casa e la trovo veramente bellissima non è un amore questa cosa cioè guardate che bella che luce pazzesca che fa vabbè adoro troppo bella mi piace molto come l'ho composta è molto bella è proprio pucciosa bella 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 top ho preso a tema natalizio questa felpa veramente molto pucciosa alberesca con i candy cane le palle di natale il pungitopo con le bacche quindi qua abbiamo la pifferaia e e blues adoro perché comunque è in verde qui ha le tasche molto molto bella i polsini fatta molto bene anche dietro è uguale è bella è natalizia e e trovo che con questo colore di capelli si stia veramente benissimo vabbè questo sta bene con qualsiasi colore questa qua è unisex va bene sia da maschio che da femmina poi per ultimo ho preso questa camicia qui che è bianca e blu è molto carina le maniche sono fatte così con due bottoni ha la particolarità di avere questa cinta che si può mettere o dietro oppure fare il fiocchettino e metterla sul davanti ovviamente ce l'ho anche da questa parte vedete si può legare appunto fare un bel fiocchettino qua sul fianco oppure farlo dietro è particolare appunto per questa allora la camicia è è così è più lunga dietro che davanti ma di poco vedete così è ha questo effetto stondato non sapere come dirvelo è una camicia di cotone è bella un bel cotone è fatta bene mi è piaciuta perché è particolare e quindi l'ho presa bene queste erano le cose che ho preso da banggood se le indosserò vi farò vedere il pezzo dove le indosso se no vorrà dire che non le ho indossate vedremo se sarò pigra oppure ve le farò vedere e niente io vi mando un bacione vi ricordo che tutti i link ve li lascio qua sotto vi state nel primo commento in alto e forse farò una live stasera ancora non lo so non lo so e domani ci vediamo col terzo video haul di Primark che di sapere sta cosa perché è veramente top solo io posso fare queste cose avevo registrato il video e convinta di averlo passato sul computer l'ho cancellato adorate io no quindi ve lo devo riregistrare per fortuna vedendo gli altri video che ho fatto andando in esclusione so che cosa non vi ho mostrato e quindi vi rimostrerò le cose che avevo già mostrato l'unica cosa è che a certe cose ho tolto il cartellino però più o meno mi ricordo i prezzi e niente vi farò vedere le cose comunque bene io vi mando un bacione che se tutti noi iscritti che siete iscritti di sempre mi raccomando iscriviti se non vi vengo bene a casa e grazie Alessia top banggood e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao